Visto che ci avviciniamo al giorno del derby di Milano, il canale YouTube Nerazzurri News vuole portarvi indietro nel tempo narrando i vecchi derby giocati dalla nostra gloriosa squadra. Come primo derby, torniamo indietro al 2015, precisamente al 13 settembre. Buon ricordo a tutti i tifosi nerazzurri! Milano, 13 settembre 2015, nella straordinaria cornice del grande derby milanese, l'Inter ha riportato i colori nerazzurri alla ribalta con una vittoria emozionante, scaturita da un sinistro impeccabile di Freddy Guarina al minuto 58. Questo gol memorabile ha siglato L1-0 a favore dell'Inter e rimarrà inciso nella storia del calcio italiano, al termine della partita. Il centrocampista Freddy Guarina ha condiviso la sua gioia dichiarando, un gol come questo rimarrà nella storia. Stiamo dimostrando che abbiamo valore, ma dobbiamo continuare a pensare partita dopo partita. Le parole di Guarina riflettono la determinazione e la fiducia che permeano la squadra nerazzurra. Questa vittoria ha portato l'Inter in vetta alla classifica. Mentre il Milan di Siniscia Mijajlovic ha subito una sconfitta amara nel tanto atteso scontro tra cugini. Nel primo tempo, la partita ha visto ritmi elevati nei primi 20 minuti, con Luis Adriano che ha minacciato più volte la porta avversaria. Nella ripresa, è stato il colombiano Guarina a decidere l'incontro, segnando il suo centesimo gol in Serie A. Tra i nerazzurri, spiccano le prestazioni positive di giocatori come Jovetice Murillo. Dall'altra parte, il Milan sembra ancora in cerca di un'idea di gioco definita e mostra una carenza di qualità nel centrocampo. Nonostante il subentrato Balotelli abbia creato due occasioni nitide, la vittoria è andata all'Inter, lasciando i tifosi nerazzurri euforici e i rossoneri delusi. Questo derby milanese del 2015 è stato un capitolo memorabile nella lunga storia di rivalità tra le due squadre di Milano. Un momento in cui l'Inter ha brillato e ha dimostrato il proprio valore sul campo.